E quindi cominciamo da lontano, dal 2245, l' Enterprise, chi non la ricorda, spero anche i più giovani, dove una cosa veramente straordinaria e che ci colpiva da bambini e da grandi era il teletrasporto. E quando ho cominciato ad avvicinarmi alla stampa 3D, caso vuole che in quegli anni, nel 2014 in particolare, ha cominciato a interessarmi la stazione orbitante, quella di prima era un falso della letteratura, meravigliosa, cinematografica, questo è un vero, questa è la stazione orbitante internazionale. Su quella stazione orbitante, non tutti lo sanno e ve lo dico io, c'è una stampante 3D. E su quella stazione orbitante, nel 2014 dell'epoca nostra, è successa una cosa straordinaria, che Samantha Cristoforetti e il suo equipaggio e Baccio Hilmore, che era il comandante, hanno chiesto alla base una cosa, perché avevano bisogno di un oggetto, avevano bisogno di un cricchetto, di una chiave. Hanno mandato questo messaggio, appunto, e dalla NASA gli hanno mandato questo e non l'hanno mandato soltanto a loro, l'hanno mandato postandolo sul sito di www.nasa.org, dove tutti potete trovarlo, il file cosiddetto STL che consente di stampare questo. E noi, e un po' di milioni di altre persone, abbiamo cominciato a stamparlo. Perché? Ma intanto perché è bello. È bello sapere che hai un oggetto che funziona, è stampato per i tecnici in un pezzo solo, non c'è assemblaggio qua. Dentro c'è una signora frizione che per spiegare magari a qualcuno come funziona una frizione, vederla mentre cresce dentro la stampante, ha un significato. E noi insieme ad alcuni milioni di altri ce lo siamo stampato. Adesso ce l'ho qui e mi chiedo cos'è straordinario e cos'è quotidiano. Comincio a chiedermelo ora. Io posso stamparmelo tutti i giorni se voglio sperimentare la potenza di questo concetto. Però certo è stata la prima volta che è stata, come dire, realizzata una stampa 3D on demand nello spazio, la cosa più vicina al teletrasporto che io possa proporvi oggi. Eccolo qua. Ed eccolo qua, soprattutto. Poi, a questo punto, ho pensato di spostare la vostra attenzione sul titolo appunto del mio intervento che è fare o non fare. Non esiste provare, ricorderete anche questa è una citazione piuttosto colta del maestro Yoda, che spero ci perdonerà per quest'uso un po' ingegneristico che ora cominciamo a fare. E ci concentriamo su fare. Allora andiamo a vedere cosa dice il vocabolario Treccani o il Cambridge Dictionary quando si parla di fare. Dice che fare ha tanti significati, ma ce n'è uno, quello lì davanti, che mi piace, perché ha a che fare con il costruire, il fabbricare, il mettere insieme. Pensate, la Treccani addirittura, per dare il senso di quel fare, dice, cita Dante, colui lo cui saver tutto trascende fece gli cieli. Non è che se li ha inventati, li ha fatti, pure lui. E lo stesso nell'inglese. L'inglese ha un vantaggio. Noi fare ne abbiamo uno solo. Loro hanno il meraviglioso verbo make, che nell'inglese quindi noi abbiamo tradotto make or make not. Perché è il make, non il do, che attiene al produrre. Ed è quel make che a me interessa sottoporvi. Perché vedete, io credo, sono vecchi, appunto è 35 anni che sto qua, e ne ho viste un po' di tutti colori. Quando io ero piccola non c'era che due canali, il terzo è arrivato dopo, e il telefono stava alla parete, non in tasca. E io allora sono cresciuta in un contesto dove il fare aveva un profondo significato. Ho fatto ingegneria perché volevo fare le cose. Non posso negare che negli ultimi 15-20 un certo distacco dal fare nel senso di costruire a causa della meravigliosa potenza dell'usare strumenti che sono potentissimi, che ci fanno connettere, che ora ci guardano in streaming, che meraviglia. Però se li apriamo uno di quelli dentro non sappiamo cosa fare. Allora io dico facciamo cose nel senso di make e cerchiamo di farle in un contesto che sia di ricerca. Quindi io, cinque anni fa, ho iniziato a dirottare dallo studio solo delle molecole meravigliose, i polimeri, io studio la plastica, a qualcosa che avesse un'implicazione più immediata. E ci sono tre date che vi propongo, sempre in questo passaggio temporale che è partito dal futuro, ora torna al passato, in che ne erano le foto del passato, volutamente. In quel laboratorio il professor Natta conduceva i suoi studi di chimica analitica e con i suoi collaboratori prese il premio Nobel per la scoperta del polipropilene esotattico, unico premio Nobel per la chimica di questo paese. Poi invece nel 1986, meno famoso per i più, Chakal, questo signore un po' attempato, allora era più giovane, ma era sempre un po' serioso, brevetta la prima stampante 3D, non come quella che ora vedete nelle case, un po' diversa, ma fa il primo brevetto nell'86. E fa anche un sacco di soldi, beato lui, perché ha avuto questa idea straordinaria di far fare le cose in modo rapido, prototipabile, eccetera, con stampanti, le sue, in genere molto costose. Brevettatissimo, tutto. Nel 2011, questo simpatico signore sulla sinistra che si chiama Adrian Boyer, si inventa, in realtà ci aveva cominciato a lavorare già prima, nel 2004 circa, questo progetto che si chiama Rap Rap. Rap Rap vuol dire replicare rapidamente. E quella foto indica che lui mette a fuoco un concetto, fare macchine a basso costo, che siano genitori di altre macchine affini. Quindi la macchina figlia si stampa con la macchina mamma. Sì, femminile. E loro diffondono questo sapere. Perché il 2011? Perché sono passati 25 anni dall'86 e nell'86 più 25 scadono i brevetti. Quindi questo momento per chi lavora con la stampa 3D è altrettanto epocale. E allora io decido, vengo a contatto grazie ai miei allievi di design, devo dirlo. Molto visionari. Vengo a contatto con questa cosa del potere, ci provo, almeno nel quotidiano o nello straordinario, vediamo, introdurre stampanti 3D a basso costo, la più costosa del nostro laboratorio, tranne una che è particolarissima, la più costosa del nostro laboratorio costa 4.000 euro. Ed è grande, cose grosse. E quindi introdurre strumenti a basso costo, facilmente condivisibili e intrinsecamente inclusivi. Cioè ho pensato che mi pareva interessante fare cose non per qualcuno, soltanto, come la scienza di base fa e Dio la benedica, ma c'era un altro binario forse per fare cose con qualcuno, includere persone normalmente non dedicate alla ricerca in questo percorso. Ecco che metto a fuoco una cosa che poi più tardi, tipicamente un paio di mesi fa, sento chiamare, come io volevo chiamarla, la Frugal Research. Non me la sono inventata io. Negli Stati Uniti sta prendendo piede, il professor Peer sta facendo cose meravigliose, in cui lui dice, siccome soldi qua non ce n'è, cioè loro ce li hanno ma noi meno, quindi per noi è più vero, non possiamo tutti permetterci macchine da 500.000 euro per fare sognare il mondo. Qualcuno ce le ha ed è bene che con responsabilità ed etica lavori bene per diffondere quello che sa. Poi però vengono fuori macchine e non solo le stampanti 3D, i tagli laser, addirittura strumenti di caratterizzazione materiali che costano, che riusciamo a far costare un po' meno con un concetto di frugalità che è fare tanto e bene con poco. Ed ecco che arriva il più lab, i lavandini sono gli stessi, perché il laboratorio dove io ho l'onore di lavorare con i miei ragazzi è lo stesso di quello di Giulio Natta che faceva le analisi chimiche. E mi trema sempre la voce quando lo dico, non riesco mai a dirlo tutto filato. I lavandini non sono più apribili per questioni di sicurezza, i banconi sono gli stessi, dovremmo metterli a posto per questioni di sicurezza e sarà un giorno faticoso. Comunque lì abbiamo cominciato con le stampanti e abbiamo cominciato a connettere persone perché c'è un fascino, c'è un aspetto ludico. Vi ricordate la prima volta che avete visto una stampante 3D? Spero di sì, perché è un bel momento. Tu vedi le cose che si fanno, è magico, è come il teletrasporto. E allora abbiamo cominciato a fare cose e qui c'è il mio preferito, che è mio nipote Matteo, che ebbe secondo me la fortuna, spero che la consideri tale, in realtà tre anni fa, aveva dieci anni, di vedere una stampante 3D come quella e io gli chiesi Matteo che cosa vuoi fare? Ti porto a vedere una stampante 3D. E lui mi disse voglio fare questo, voi non lo vedete, si vede un po' meglio nell'immagine di destra, è un cubetto di Lego da uno. E io gli ho detto scusa Matteo, ma perché non fai una barcavela? Cioè tanta roba quella è. No? E perché poi da uno? E per forza zia, perché i pezzi da uno sono pregiati, sono preziosi, perché Andrea me li perde sempre e quando mi servono non ce li ho. Lui nega di aver detto questa frase così, oggi. Più o meno l'ha detta così e io l'ho fatta mia. Ed è il mio slogan che non riesco a cambiare, insieme ad un altro paio che verranno dopo. La stampa 3D. Quando mi dicono, ma professoressa, poi alla fine che servirà la stampa 3D? Stai sereno. Intanto la stampa 3D serve a fare quel che serve, quando serve. è un concetto raffinatissimo di questo bimbetto di dieci anni allora. Cambiare il punto di vista, fare ordine. Intanto il mondo veniva un po' invaso negli anni successivi da nanetti, vasetti, tutti a fare cose. La stampa 3D, e vabbè. Per un po' va bene, poi bisogna anche cominciare a fare ordine. E allora abbiamo cominciato a razionalizzare questa cosa perché uno dovrebbe stampare in 3D. Per esempio per copiare. E allora ci siamo messi a copiare quotidiano, pezzi di Milano. Lì vedete la skyline. Questo è il castello Sforzesco. Non ha una risoluzione assoluta da architetto, però ha una risoluzione quotidiana, bella, che ci ha consentito di avere un pretesto perché questo lo vide a una mostra un non vedente, il direttore dell'Istituto dei Ciechi, che mi propose di portarlo all'Istituto per far vedere con le mani Milano a chi non vede. E questa è un'altra, come dire, pietra migliare della nostra storia. Per cui è stato facile entrare in contatto con persone che con il fare devono ragionare diversamente che da noi. E così abbiamo cominciato a esplorare il personalizzare. Questo è un pezzo di pirandello che non riesco a non mettere, gli altri li ho tolti per mancanza di tempo. La fantasia abbellisce gli oggetti, cingendoli e quasi irraggiandoli di immagini care. Nell'oggetto amiamo quel che vi mettiamo di noi. È tantissima roba. Questo cambia il paradigma dell'usegetta. Tutti mi dicono, ma non lo stampa in 3D e poi lo butta. Dipende da cosa c'è dentro. Se lo stampa perché lo vuole, perché gli serve quando serve, non lo butterà e imparerà a ripararlo, soprattutto se è piccolo. E quindi abbiamo introdotto questo meraviglioso concetto del personalizzare non per qualcuno ma con tutti. E allora abbiamo cominciato a lavorare con persone che hanno l'artrite e hanno difficoltà a aprire le bottigliette e con loro, non da noi, che chissà cosa avremmo tirato fuori, abbiamo iniziato con questo e poi abbiamo continuato con altre forme, eccola lì, per risolvere con loro un altro problema. Che voi, se non avete qualcuno che ha l'artrite, che gli impedisce di opporre il pollice, non ci avete mica pensato, a quanto è difficile abbassare una cerniera se non puoi opporre il pollice. Ti cambia la vita. Anche questo. Perché le ragazze, è una malattia di genere purtroppo, 4 su 5 sono donne, avevano già pensato ferretti, legnetti, ok, stampiamolo con un pernino e sono impazzite. Hanno cominciato a fare tutti i colori, tutte le forme, abbiamo una collezione, ognuno faceva il suo. Lo pensava. Se erano bravi a disegnare, se lo disegnano da loro, e se no ci sono i designer, che sono straordinari, perché sanno anche mettersi al servizio, a volte. E quindi arriviamo a un altro esperimento che c'entra col quotidiano e con lo straordinario, c'entra con la condivisione di questo meraviglioso mondo. Negli Stati Uniti c'è un ragazzo fantastico che si chiama Andreas Bastian, lui è un grande, lavoro nella fondazione Google, è quello che fa gli arti a basso costo, andatelo a vedere, Andreas. E lui aveva pensato di stampare dei tutori, un rettangolare i suoi, da mettere il polso per fare delle cose, piani. Poi noi con lui ci siamo accorti che il polimero di cui è fatto questo oggetto ha una meravigliosa transizione vetrosa, così l'ho detto oggi e vado bene, che ci consente di rammollirlo, termoformarlo, sulla braccia della persona. Quindi questo non è una polsiera qualsiasi, è la mia. E ieri sera con Davide me la sono messa a misura. Ecco dunque il fare insieme. Fare insieme sono gli unici due nomi che cito e sono Laura e poi ci sarà Giulia. Laura l'abbiamo incontrata al workshop all'Istituto dei Ciechi, perché Laura, dalla nascita, ha una malattia che peggiora, per cui adesso ha uno stato di ipovedenza molto spinto. E gli ho detto, Laura ma tu cosa vorresti fare con queste stampanti? Lei è venuta subito, si è entusiasmata e la prima cosa che ci ha detto è, ma io studio la musica, sì, Laura studia pianoforte, batteria, tira di scherma, fa cose così. E ha detto, io l'ho spartito in braille, è pesantissimo, fatemene uno dal nero e magari dal file MIDI. E così con Stefano, che ci ha fatto la laurea sopra a design ed engineering, abbiamo stampato il primo spartito da file MIDI su supporto flessibile, col quale speriamo di andare avanti a diffondere questo sapere. Ma poi Laura, che ha una straordinaria sensibilità, ha cominciato a frequentare il laboratorio ed è venuta a fare l'alternanza scuola-laboro da noi. Per cui Laura ha lavorato con i ragazzi, qui c'è Valerio che le insegna a cambiare il filo. Cambiare il filo è un'operazione importante in una stampante 3D, cosa che lei ha fatto. E con lui e con gli altri, lei ha deciso di progettare, modellando con le mani dal pongo, dall'ego, quell'oggetto sulla destra, che è la sua non libreria, che risolve un po' di problemi di spazio a me e a lei, che siamo tanto disordinate. Qua sotto c'è un video, venne a trovare Laura durante il suo percorso, Vincenzo. Anche Vincenzo non ci vede. E loro due hanno lavorato per un pomeriggio insieme e quello che vedete è Laura che insegna il cambio filo a Vincenzo. È quotidiano o straordinario? Io non lo so più. Per me è straordinario, però a noi capita tutti i giorni. E poi da cosa nasce cosa? Citazione. E Laura dice, ma guarda che c'è un problema. Se io voglio fare con i miei amici, e Vincenzo che fa l'informatico anche di più, dei grafici, dei grafici. Loro ormai con il voice over leggono, scrivono, anche superando il braille. Ma i grafici sono un problema. Come la fai a vedere una curva, per esempio, y uguale a x? Una bella retta che passa per l'origine. La scrivi l'equazione, ma come la vedi? Lì ancora oggi molti hanno dei punzoni dove degli operatori tracciano con un punzone appunto il grafico a mano. E invece, con Cristian, Laura si è messa a lavorare, e Cristian si laureerà la settimana prossima, per fare la prima stampante 3D per grafici tattili. Quindi lì dentro c'è un punzone che preleva un file dove c'è quella retta e fa quello sulla destra. Ah, si vede. Pensavo che noi vedenti non avremmo avuto modo di vederlo, però quello che è più bello di tutti è questo. Perché questo potreste vederlo con gli occhi chiusi. E questo ritengo personalmente sia un passaggio che se quei ragazzi riusciamo a farlo diventare qualcosa di più grande, magari su scala anche del mercato, potrà dare delle soddisfazioni a molti, quotidiane. Siamo verso la fine, cioè creare. Dietro qui c'è un video. Questo è Moonflower. E questo è il video che racconta lo sbocciare di un fiore molto particolare e assume questa meravigliosa forma in un tempo, diciamo ragionevolmente breve, tanto da farci un timelapse. E quindi Gabriele ha preso quel film, ha fatto il timelapse, l'ha ridotto in disegni del perimetro, ha messo quei disegni del perimetro che crescono uno sopra l'altro e ha fatto questo. Questo è l'unione dello spazio e del tempo dello sbocciare di un fiore. È straordinario o quotidiano? Secondo me è quotidiano perché, per esempio, non è fatto di plastica. È fatto di ceramica, perché abbiamo imparato a lavorare anche la ceramica. E con noi in Italia, devo dire, ci sono delle straordinarie realtà che lavorano la ceramica e tre anni fa facevano queste casette e adesso fanno case che sono le più alte del mondo, con una stampanta alta 12 metri che si candida a fare moduli da portare nei paesi del sud del mondo a bassissimo costo. E così arriviamo al parallelo dello straordinario e quotidiano. Giulia aveva un sogno, lei in sinna, quando è molto piccola, di mangiare da sola. E così ci ha chiesto un braccetto, si chiama Dandy, che costasse poco da poter usare e usare quando voleva. In realtà lei lo sta muovendo già con un joystick modificato sulla tua mano, sulla mano ci sarebbero tante cose a dire. E qui la stampa 3D è stata ancillare, ci ha consentito di usare dei motori non perfettissimi stampando pezzi, le scocche. E Karim si laura la settimana prossima con Giulia, che avrà il suo braccio. E poi mi fa piacere dire questa cosa, perché questo secondo me è straordinario, perché sembra non avere a che fare con la materia, ma se voi inquadrate quella lì, finite sul sito del nostro laboratorio e trovate tutti i file STL dei pezzi che vi ho mostrato e anche molti di più. E non importa se non avete una stampante, venite qui a Design, avete i Fabla vicino a casa e se qualcuno lo volete stampare stasera lo potete fare. Perché se potete sognarlo, parafrasando un grandissimo, potete stamparlo. E allora bisogna essere belli e coraggiosi e dire con forza il messaggio che vi lascio. Questa è tanta roba. È tanta roba. È tanta roba e secondo me attiene a qualcosa che per me è affidare, dare opportunità a chi lavora con me quotidianamente, che è rivoluzionaria. E la rivoluzione del fare è riprendersi il fare che abbiamo un po' perduto. Questo può cambiare tutto nella società. Credetemi. E il secondo messaggio che vi lascio, ovviamente, qui siamo tutti noi alla Maker Faire, dove siamo andati a condividere con bambini, famiglie, 110.000 persone in tre giorni, queste cose che abbiamo pensato. Non dimentichiamo mai, ma proprio mai, perché fare è di tutti. Come dico io, proprio di tutti. Non c'è verso fare o non fare. Non esiste provare. Grazie. Grazie.